Vedi, Ernst, due ragazzine sono state trovate strangolate negli ultimi 16 giorni ed è mio compito trovare il colpevole. Tu sei un test primario sulla scena del delitto e io devo assicurarmi che i fatti della tua dichiarazione collimino con gli altri fatti del caso. Oggi il signor Ernst non appare agitato come ieri. Io sono ospite qui e pretendo di essere rispettato sergente OP. Owens, anzi ispettore. Per favore, per favore, per favore, basta! Per favore, vediamo di calmarci. Ognuno di noi vorrebbe essere in un altro posto. Dunque, Henry, se non ti dispiace, per favore. Dicci ancora una volta come trovasti il corpo della ragazza.